OnePrint, azienda del gruppo Grafica Metelliana, si occupa di stampa digitale di piccolo, medio e grande formato. OnePrint, invia Gaudio Maiori a Cava dei Tirreni. Il panorama associativo metelliano si arricchisce di una nuova lealtà. È nata infatti l'associazione Finestra Sud, fondata da un gruppo di professionisti cavesi, e che intende divenire luogo di confronto e di studio sulle tematiche attinenti alla vita della città di Cava dei Tirreni e del territorio di cui fa parte la Campania, da sempre terra felix per la sua fertilità e per il fermento culturale, politico ed economico che l'ha sempre contraddistinta. A presiedere l'associazione in questi suoi primi vagiti è Luigi, senatore, economista e docente universitario. Finestra Sud è una nuova associazione che è nata da una mia idea che ho condiviso con alcuni compagni di viaggio. Finestra Sud è un modo nuovo di proporre idee e costruire ambienti nuovi per la nostra città. Il nome Finestra Sud è riferito al nostro Monte Finestra, quindi un riferimento geografico. Oltre a questo riferimento geografico c'è un significato di fondo, perché la vetta sud di Monte Finestra è quella più alta, quindi si punta in alto, si punta a raggiungere i risultati attraverso le idee e le azioni. Quindi il payoff dell'associazione è appunto idee e azioni per la città. Finestra Sud è anche la finestra. Il significato fondamentale è quella che c'è al centro tra le due vette. Finestra serve ad aprire, aprire elementi, a guardare l'orizzonte, a far cambiare aria, quindi ha questi significati. La neonata associazione si propone come un luogo di incontro e di aggregazione, anche con l'organizzazione di eventi sulle tematiche inerenti al territorio, con l'idea di una formazione che non rimanga fino a se stesso, ma incida concretamente sul territorio, apportando il proprio contributo di idee e proposte presso gli enti preposti. Un'associazione di 360 quadri che farà proposte, che cercherà di formare i cittadini e aiutarli alla partecipazione alla cosa pubblica, all'amministrazione pubblica. Si pensa a un significato di politica nel senso nobile del termine, quello di aiutare a gestire la cosa pubblica.